Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 3 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Colpo di testa con Urano. Urano nel segno ancora per questo mese abbracciato a Giove, oggi vi fa sentire la sua forza con particolare virulenza. Tutta colpa della luna alta nel cielo in quadratura, non sollecita soltanto voi ma anche il partner, che per un po' incassa ma poi, nonostante vi adori, vi mette il muso. Bello come una statua e algido come un blocco di marmo sotto la neve, così imparate a rispettare le persone e la loro sensibilità. Vero che avete bisogno di spazio ma non potete sottrarlo agli altri. Malcontento anche sul lavoro, tante promesse ma nessuna certezza. Peggio ancora se vi state godendo l'ultimo ponte e il capo continua a chiamarvi per tamponare emergenze, l'autostima gongola, ma gli amici o i compagni d'escursione cominciano a sbuffare. Difficoltà e ostacoli per la coppia, soprattutto nella realizzazione di progetti importanti. Tuttavia, superate queste difficoltà, la coppia realizzarà finalmente, e con successo, i propri progetti. Crisi temporanee e di breve durata. Se ieri non era un buon giorno, non è detto che lo sia anche oggi, coltivate la speranza e soprattutto impegnatevi di più in quello che state facendo. In amore ci sono piccoli colpetti al vostro umore, ma niente di serio, tutto passeggero. Oggi siete particolarmente irascibili e non vi sentite del vostro umore migliore, nel primo pomeriggio la situazione potrebbe peggiorare e dovrete far fronte ad alcuni eventi con tutta la vostra pazienza. In serata ci sarà un sensibile miglioramento. Oggi come non mai siete convinti di potercela fare da soli, tuttavia sarebbe davvero sciocco rifiutare un aiuto che vi verrà offerto. Oggi è un buon giorno per colloqui di lavoro o per parlare con i vostri capi. Abbiate fede e maturate in voi la convinzione che potreste anche ottenere più di quello che chiedete. Oggi mostratevi gentili con tutti anche se avreste voglia di urlare, con la moderazione otterrete più di quanto sperate. Sorridete di forte a ogni problema e non mostratevi sconfitti prima di aver lottato. Apritevi agli altri, mettetevi in discussione e affrontate un cambiamento radicale che si impone nella vostra vita. Non siate pigri e datevi da fare. Prendete oggi pure degli impegni, ce la farete comunque a mantenerli. Solo non cercate a tutti i costi solo quelli che pensate possano essere facili. Oggi non dovrai eccedere con i comportamenti lunatici ed affrontare con più estro i problemi che assillano il tuo quotidiano e il rapporto con la partner. Smettetela di piangervi addosso e soprattutto non addebitatevi colpi che non avete, cercate di essere più sicuri nelle vostre cose e chiaritevi le idee sul da farsi. Il sole nel vostro segno irrobustisce la vostra già piena salute morale e fisica. In evidenza sono la voglia di vivere e di darsi comunque sempre da fare, per produrre e ottenere risultati. Venere vi assicura la concordia nel nido di appartenenza. Se in casa ci sono bimbi piccoli, sarete deliziati dalla loro compagnia e delle sorprese che in questa seconda giornata del mese vi regaleranno. Venerdì malmostoso, con la luna cuvariana lo zenit inquadratura al vostro segno e ai vostri inquilini giove e urano, mai stanchi di viaggio ed avventura. Se il ponte lo avete iniziato ieri la vacanza non si rivela all'altezza delle aspettative, peggio ancora se ieri siete rientrati e oggi, volenti o nolenti, vi state rituffando nella quotidianità lavorativa. In caso la luna storta è giustificata. L'irritabilità provvidenzialmente camomillata da Giove, tuttavia al vostro capo qualche frecciata non la risparmiate e lo stesso vale per il capogita qualora il suo atteggiamento non sia conforme alle vostre aspettative. Amore ed Eros. L'amore c'è e tanto siete voi casomai a respingerlo stuzzicati da insolite fantasie che potrebbero condurvi molto lontano. Troppo forse, perfino da voi stessi. Ma il toro griffato da Venere non solo ha bisogno d'amore, ne vive. Si tratta solo di trovare uno schema di rapporto un po' più arioso con spazi autonomi per ciascuno dei due, qualche serata voi con i vostri amici e il partner con i suoi, una gita separati, insomma non fare tutto insieme come gemelli sia mesi perché non lo siete. Siete in cerca dal vero amore. Un bel Nettuno, astro della ricerca, dell'evoluzione, della possibilità di varcare nuovi territori, in splendida posizione e specie se festeggiate il compleanno tra il 14 e il 20 di maggio, vi offrirà la possibilità di incontrare una persona capace di rivoluzionarvi la vita e anche se voi siete un segno decisamente conservatore, vi lascerete trasportare dalle emozioni cui non potrete resistere. Lavoro e denaro. Colleghi disponibili e tutti dalla vostra contro il capo esterico che prima vi assegna un'incombenza e poi cambia idea costringendovi a fare buona parte del lavoro. Evidentissima l'insofferenza nel vostro sguardo, anche dai vostri gesti il nervosismo trapela visibilmente ma a lui non fa né caldo né freddo, lui è il boss, voi l'impiegato. Questa l'ingiustizia sociale che vi fa vedere rosso, dalle caste indiane ai nostri giorni. Cambiata la facciata ma non la sostanza. Non smettete di darvi da fare e organizzare le vostre attività per il futuro, anche al di fuori dell'attività consueta che vi obbliga a impegni di responsabilità. Lettura, musica, sport ad esempio non cessano di tenervi compagnia. Non vi potrete però lamentare, avrete al vostro fianco astri dinamici, come Giove, Urano e Sole transitanti proprio in toro, che vi renderanno particolarmente instancabili, ma anche notevolmente produttivi. Benessere. Nervosismo, insonnia e problemi nei circolatori. Insomma di malucci e malanni oggi ne registrate parecchi, di tutte le salse e per tutti i gusti, di bello c'è che a guardarvi in faccia non si direbbe, rosei come l'alba, belli come il sole. Per lei, voglia di cambiare tutto, look, ambiente, lavoro e magari anche partner. Ma su questo punto non siete sicure, tenetelo in osservazione ancora un po'. Per lui, individuata la persona che vi fa battere il cuore, non troppo forte però. Andare in fibrillazione non è salutare. Self-control please. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.